siamo pronti e curiosi di sapere quali sono gli altri nomi altri 11 biche in gara iniziamo da anna oxa lazza da menari paola e chiara l di non ci credo 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 ma saremmo 20-23 porca miseria piccolo 31 e lo dico la pesce di martino a lieve moda mara satel leo gasman i cugini di campagna mister re ah ah ah